Questo non è amore, l'iniziativa organizzata dalla Questura di Piacenza per sensibilizzare sulla violenza di genere è tornata in piazza. Le vittime sono le donne, noi vogliamo aiutarle, dobbiamo stare vicino a loro, siamo pronte ad ascoltarli in ogni momento e ringraziamo tutte le associazioni che su questo campo si danno da fare e ci danno una grossa mano perché grazie a loro noi riusciamo a fare bene il nostro lavoro. E c'è, devo dire, in questo territorio una interazione, una collaborazione con loro che io definisco eccellente. Aumentano le denunce, segnale che le donne stanno trovando sempre più il coraggio di dire basta ai maltrattamenti e alle violenze. Le denunce sono in aumento e questo ci fa capire come finalmente anche quella che è la cortina a volte del silenzio e anche dell'omertà si stia davvero squarciando. Però dall'altro lato devo dire che è importante, è sempre più importante fare iniziative come queste perché non solo la violenza fisica ma anche la violenza psicologica deve essere denunciata che è una violenza a volte subdola, strisciante, che fa male, fa male, annienta le persone e soprattutto distrugge a volte non solo le donne ma anche i minori. Un aumento delle denunce al quale corrispondono indagini della squadra mobile. L'azione della Polizia di Stato, ma mi sento dire di tutte le forze dell'ordine, è di assoluta attenzione nei confronti di questo tipo di reato. Le denunce per fortuna aumentano per cui noi siamo messi nelle condizioni come Polizia giudiziaria di ottenere risultati, di garantire la sicurezza e la tutela di queste persone che al di là del genere perché poi sono fenomeni che abbiamo osservato possono riguardare sia il genere maschile che il genere femminile sono di assoluta importanza ed è necessario sensibilizzare il più possibile perché ci si senta liberi e sicuri nell'ivolgersi agli uffici di Polizia. Un fenomeno sociale che spesso si sviluppa all'interno delle famiglie e quindi difficili da identificare. All'interno del nucleo familiare la violenza è difficile concepirla, gestirla e soprattutto risolverla con soluzioni definitive che non si risolvano poi in disastri. Ciò nonostante il rispetto per la donna che ha una funzione doppia in questa società di lavoratrice, madre e genitrice insomma in questo momento è una funzione che noi dobbiamo supportare in ogni modo perché è una società civile e si vede da come i piccoli nuclei di quella società che è la famiglia sono in grado di interagire prima al loro interno e poi all'esterno con la comunità. L'iniziativa tornerà l'8 marzo e in ulteriori appuntamenti durante l'anno.